Grazie a tutti. Nella giornata di ieri la compagnia di Salso Maggiore ha effettuato controlli nei comuni di Noceto, Felino e Sala Vaganza, integrando le pattuglie delle locali stazioni con le gazzelle del radiomobile e personale in abiti civili dell'aliquota operativa. Come risultato dell'operazione oltre 80 le persone identificate e poco più di 60 i mezzi controllati che hanno portato a diverse denunce, segnalazioni alla prefettura e sequestro di stupefacenti. Proprio nel corso dei servizi serali una pattuglia della stazione di Noceto nei pressi della frazione di Costa Mezzana è stata controllata un'autovettura parcheggiata in una zona buia. Al controllo e quindi in seguito alla perquisizione del veicolo uno dei due ragazzi è stato trovato in possesso di oltre 5 grammi di hashish e un coltellino a serramanico. Sempre a Noceto, stavolta a Ponte Taro, una pattuglia del radiomobile è intervenuta presso un bar dove una persona sotto l'effetto dell'alcol stava creando problemi. L'uomo, in evidente stato di alterazione, alla vista dei militari ha iniziato ad insultarli e minacciarli finché non è stato portato alla caserma dei carabinieri e naturalmente denunciato. Nel comune di Felino i carabinieri della stazione di Salabaganza, sempre in seguito al controllo di un'autovettura sospetta, hanno rinvenuto oltre 20 grammi di hashish, verosimilmente destinati alla vendita, ed un coltellino a serramanico con residui della stessa sostanza sulla lama, evidentemente utilizzato per tagliare le dosi. Per il conducente è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per porto abusivo di arma da taglio. In previsione del prossimo passaggio del Giro d'Italia per Borgotaro, le guardie ecologiche di Legambiente si sono organizzate per una pulizia ecologica del territorio, non senza, purtroppo, il ramarico di constatare sempre più disinteresse da parte dei cittadini in queste iniziative che dovrebbero invece essere sostenute con entusiasmo da ognuno di noi. Servizio di Pierluigi Previ. Iniziativa di salvaguardia ambientale delle guardie ecologiche volontarie dell'Alta Valtaro in previsione del passaggio del Giro d'Italia Durante la mattinata di oggi hanno percorso la zona di via caduti del lavoro e quella adiacente, la superstrada, ripulendola delle numerose cartacce e altri rifiuti sparsi per rendere più accogliente il percorso. Buongiorno a tutti, contavo su una collaborazione dei cittadini di Borgotaro perché a parlare si fa presto ma a svolgere i lavori ci vuole un po' di umanità. Se noi abbiamo fatto questa iniziativa non è perché noi siamo degli spazzini, no, noi pensavamo che qualche cittadino ci desse una mano. Comunque, grazie allo stesso e noi proseguiamo nel nostro lavoro perché ci teniamo alla dignità e ci teniamo al nostro paese, ci teniamo a Borgotaro perché siamo di Borgotaro e qui ci sono persone anche dei dintorni, degli altri comuni che sono venuti ad aiutarci. Comunque, grazie allo stesso, all'anno prossimo. Finalmente i bambini della scuola elementare di Tarsogno potranno frequentare le aule in totale sicurezza. I dettagli in questo servizio di Emanuele Berni. Sono terminati i lavori di messa in sicurezza della scuola primaria di primo grado o scuola elementare a Tarsogno nel comune di Tornolo. L'amministrazione comunale ha investito circa 10.000 euro per rendere più sicuro il presso scolastico di via Poggiolo per lavori che riguardano la riparazione o in alcuni casi sostituzione di alcuni infissi esterni all'edificio e il posizionamento di controsoffitti nelle aule e nei collidoi, onde evitare che le lastre di intonaco, ormai vetusto e obsoleto, si potessero staccare e finire a terra. Una prevenzione necessaria, commenta il sindaco Renzo Lusardi, per evitare il peggio. Appena ci è stato segnalato il problema, siamo intervenuti e abbiamo cercato una soluzione pratica e veloce. In attesa di qualche contributo richiesto, prosegue il primo cittadino, abbiamo realizzato un piano di lavoro necessario ed urgente per risanare l'edificio e per metterlo in sicurezza nelle parti più a rischio. I nostri scolari ed i loro insegnanti, conclude Lusardi, saranno dunque fin da ora più tranquilli e più sicuri grazie a questi interventi nella scuola. L'intonaco rischiava di staccarsi dal soffitto e finire addirittura in testa ad alunni o a personale scolastico, per questo abbiamo dovuto e voluto intervenire subito. La segnalazione di un nostro telespettatore ci ha portati a Pastorello di Langhirano, dove le telecamere di Giuliano Capece hanno potuto riprendere una triste testimonianza di De Grado. Ecco il servizio. Questo è un monumento ai caduti, è stato posizionato negli anni 50 e qui parliamo oggi di cattiva manutenzione o non manutenzione di questo obelisco, di questo monumento dedicato ai caduti di tutte le guerre. e intanto per accedere, come abbiamo visto, diventa impraticabile la scalinata perché è malmessa. Ci tenevo a far vedere, anche se vogliamo, la pericolosità perché questo obelisco affaccia su questo roccione che va a sua volta sulla provinciale. In più di fianco abbiamo un'abitazione privata e come abbiamo potuto notare, come notiamo anche oggi, ci sono pezzi di mattone, di rivestimento di mattoni che cadono, cadono. Questo monumento, come si vede, è abbastanza alto ed è evidentemente non manutenuto, diciamo. Dispiace constatare questa negligenza da parte degli organi preposti, mi pare, sia il comune di Langhirano. Ci troviamo nel comune di Langhirano e mi pare che dovrebbe essere anche lo stesso comune a manutenere il monumento. Prova ne è, dicevo, non solo la perdita di mattoni, di pezzi, ma anche dei nomi incisi. Tra l'altro l'ultima lastra in alto di marmo è quasi staccata. Potrebbe cadere in testa qualcuno che magari rimarrà e ci dà. Sì, indicativo il fatto che qui, insomma, mancano, abbiamo dei nomi incisi, dei caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale. È peccato che, insomma, non sono quasi più visibili. Fermate, fermate, fermate. C'è un bicione, guardalo. Dove? Lai in fondo, guardalo sotto. Sotto i piedi di fiazza, è la curva lì, vedi, è andato via. Monumento che deve raccontare, che racconta la storia del territorio e dei nostri antenati, ma così nessuno viene evidentemente a visitare, a portare un fiore a questo monumento, forse anche pericolante, pericolante per chi transita con la macchina, insomma, sulla provinciale, ma anche, come abbiamo visto, l'abitazione qui di fianco. Ed ora una comunicazione importante in seguito al passaggio del Giro d'Italia. Si comunica per giovedì 19 maggio 2022 il divieto di circolazione in quel di Fornovo, confermato nella fascia oraria dalle 9.45 alle 13. Per le scuole viene garantito il trasporto scolastico al termine delle lezioni mattutine per secondaria e primaria di Riccò, primaria di Fornovo. Il pasto previsto nel menu sarà sostituito da cestino come da accordi con la ditta CAMST. Il servizio del doposcuola da parte della scuola Don Tarasconi viene inoltre garantito. Per l'infanzia rimane invariato l'orario di uscita, mentre il pasto verrà consegnato in via eccezionale in mattinata. Importante! Si comunica che sarà in vigore il divieto di sosta su tutta la via nazionale, in entrambi i lati, dalla rotonda gas metano sino all'intersezione con via Diaz, ossia il lungo Taro. Dalle ore 6 del mattino le auto in sosta verranno rimosse. Naturalmente ripeteremo più volte nei nostri telegiornali queste disposizioni eccezionali dovute al passaggio del Giro d'Italia. Proseguiranno per circa una settimana i lavori di manutenzione di una tubazione dell'acquedotto di Collecchio deteriorata a tal punto da provocare una copiosa perdita d'acqua. Sarà coinvolta l'area adiacente al parcheggio di via Fratelli Rosselli e ai residenti naturalmente si chiede pazienza e collaborazione. Sempre a Collecchio domenica 13 maggio alle ore 16.30 l'unità organizzazione teatrale presenterà alla corte di Giro la Taro il pescatore. Racconti e riflessioni di un pescatore. Informazioni e prenotazioni a info.associazione.uot.it Telefono 346 6716 151 La stagione organizzata con il patrocinio di Parchi del Ducato il contributo del Comune di Collecchio il sostegno di Fondazione Cariparma e il sostegno di Copa Alleanza 3.0 attraverso il progetto più vicini. Ma parliamo ora anche di sport. Ecco un appuntamento attesissimo. Ultimo atto per l'Art Arredo che questa sera si gioca la salvezza nella sfida interna contro il Go Iwons di Albinea. Alle ore 21.15 al Palaraschi i ragazzi di Coccio De Martino dovranno difendere il vantaggio di 5 punti conquistato in terra reggiana la scorsa settimana. L'appuntamento è di quelli da non perdere ci si attende il pubblico delle grandi occasioni per sostenere da vicino Oppo e compagni. L'Art Arredo dopo la vittoria per 50-45 ad Albinea affronterà questa gara con il roster al completo e la speranza è che sappia mettere in campo l'ottima difesa vista in terra matildica. Appuntamento in trasferti invece per la Robi Profumi che domani sarà impegnata nella penultima gara della stagione a Parma contro il Parma Basket Project. Coach Scanzani dovrà fare a meno ancora di Giacopazzi e dell'allungo degente Crivaro mentre il resto della squadra è a disposizione del coach Valtarese. La gara di domani sarà l'ultimo impegno per preparare al meglio la sfida decisiva in chiave salvezza di domenica 22 maggio quando Borgotaro arriverà a Pesaro per giocarsi la permanenza in Serie B. Ed ora gentili telespettatori in chiusura di telegiornale uno sguardo anche alle previsioni meteo del fine settimana di questo weekend a cura di Francesca Leoni e Cesare Groppi. Benvenuti alle previsioni meteo per il fine settimana. A Collecchio Fornovo e Medesano si registrerà una minima di 17 gradi e una massima di 27 gradi. Sereno o poco nuvoloso precipitazioni assenti 20 medi. In Valceno sereno o poco nuvoloso nubi sparse con ampie schiarite nelle ore pomeridiane. Una minima di 17 gradi avremo e una massima di 26 gradi. Precipitazioni assenti 20 medi. In Valtaro si registrerà una minima di 15 gradi e una massima di 26 gradi. Nubi irregolari con rovesci di pioggia nelle ore pomeridiane. 20 medi. In Altavalle nubi sparse con piogge moderate nelle ore pomeridiane schiarite in serata. Si registrerà una minima di 11 gradi e una massima di 25 gradi. 20 medi. Grazie per averci seguito. Francesca Leoni per TG Parmense. Il nostro telegiornale per questa sera termina qui. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordiamo sempre la possibilità di consultare la pagina YouTube e Facebook del nostro telegiornale. Quindi si tratti di TG Parmense in collaborazione con RTA, TGRTA o viceversa. Troverete le notizie singole e anche l'intera edizione del nostro telegiornale. per quanto riguarda gli orari in cui seguire le nostre edizioni ebbene sul canale 89 alle 19 video tra le TIA alle 19 e alle 19 e 30 per quanto riguarda le province di Parma e Reggio Emilia. Mentre invece su Scala Regionale avrete la possibilità di seguirci ogni sera alle 20 e 30 sul canale 80 di TV. Grazie per la vostra attenzione. Buona serata. Daniela Bassi Morano Leggi a Fornovo Taro attrezzature da giardino movimento terra e scavatori e tanto altro Morano Leggi a Fornovo Savio di sbrigo pratiche sale del commiato reperibilità 24 ore su 24 Savio a Varano Melegari e Varsi A tutto casa ferramenta casalinghi immobili elettrodomestici idraulica vi aspetta un vastissimo assortimento di stufa pellet e non solo tutto casa a Varsi Valfer elettromeccanica automazione e impianti elettrici a Parma Lemignano di Collecchio strada privata del commercio 13 oltre 30 anni di attività nel settore dell'impiantistica e automazione industriale progettazione e costruzione di linee con gli standard tecnologici e di sicurezza più aggiornati in Italia e nel mondo con personale altamente qualificato Valfer a Lemignano di Collecchio strada privata del commercio 13 AB Global Service a Madregolo di Collecchio vasta gamma di servizi dalla manutenzione del verde asfaltatura manutenzioni stradali servizio di pronto intervento movimento terra demolizioni lavori edili sgombero neve e lavori agricoli AB Global Service via Madonina 7 a Madregolo di Collecchio Il Ghiotto da 40 anni nella ristorazione a Viazzano e a Fornovo cibi freschi e genuini soluzioni personali per scuole e somministrazioni in azienda pasti di altissima qualità con prezzi da mensa Il Ghiotto quartiere artigianale a Fornovo Taro in via di Vittorio 48 e a Viazzano ai piani di riva 8 Elettro Taro Fornovo un negozio moderno di televisori frigoriferi elettrodomestici e tanto altro ottimi prezzi a due passi da te anche dopo la vendita Se serve aiuto veniamo anche a casa tua Ci trovi in via nazionale 127 a Fornovo Taro telefono 0525 2590 0525